bello a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video della taverna dello svapo come al solito io sono gavi io birillo oggi andremo a recensire il nostro nuovo liquido vai birillo esponicelo vai bellissima boccetta ciabbi per tripare su il dripper bomba il liquido è black e juice la marca se lo produce americano è un 65 35 un buonissimo liquido la torta alla fragola adagiata sopra un cracker un'americanata andremo a provare come loro che mangia questi qui fai zero nicotina zero nicotina vai gabi vai a fare la prova di svapo sempre io con la mia mac pro con le perles giabi e io con il gun 22 e la noisy cricket 22 subito si sente la fregola si si da che bando un 3db saluto le fortissime manca abbastanza fumo essendo 65 35 si avvicina a poter 50 50 si buono cazzo la fragola ti arriva subito si subito però non sento cracker questo dolce che dovrebbe essere cioè dolce è dolce però la torta cracker non si sento la fragola domina soprattutto che modo ci dai a questo liquido qua ci do un sette e mezzo sì anch'io è un sette e mezzo sette e mezzo perché si sente sciapo non proprio acquisto essendo un liquido americano deve avere sì un po' più di spirito però è buono però è buono lo consigliamo sempre il nostro negozio di riferimento se volete provare liquido più frangoloso si ci sono belle scelte ci sono per le scelte sempre di questa mano da svopo caffè a svopo caffè per noi è tutto così se il video vi è piaciuto lasciate like e iscrivetevi al canale davanti a vera dello svopo è tutto con già